buonasera buonasera sono riccardo chiaradonna e insegno storia della filosofia antica all'università di roma 3 sono autore insieme a paolo pescere di due corsi di filosofia per le scuole secondarie superiori e pubblicati presso mondadori la ricerca della conoscenza e le vie della conoscenza prima di cominciare questo webinar vi ricordo come sempre che il filmato del webinar sarà presto disponibile sul canale youtube di mondadori education e sul sito di mondadori education e che per ottenere l'attestato di frequenza di questo webinar occorre seguire la consueta procedura con la mail che arriverà tra poco tempo e la conferma attraverso il formulario online il webinar di oggi è intitolato filosofia saperi società e insieme al webinar svolto lo scorso autunno si pone in continuità con le iniziative dello scorso anno quando è uscito il nostro corso la ricerca della conoscenza un anno fa nei seminari che abbiamo svolto ci siamo sempre proposti di mostrare come una prospettiva di tipo storico sulla allo studio della filosofia fondata su un solido bagaglio di conoscenze e su una lettura dei testi non sia affatto in opposizione ma sia anzi complementare e per certi aspetti sia la migliore via per accedere a un apprendimento per competenze i due aspetti non sono minimamente contrapposti bene quest'anno noi nelle mie presentazioni cercherò di far vedere come ci sia un altro aspetto che può essere sottolineato talvolta si ritiene che lo studio della filosofia tradizionalmente concepito sia astruso slegato dai problemi attuali e possa costituire per gli studenti un tipo di apprendimento difficilmente contestualizzabile nella loro esperienza di giovani e nella loro formazione anche di cittadini anche in questo caso è mio scopo far vedere come le cose non stiano così e che anzi uno studio della filosofia solidamente fondato dal punto di vista storico sia la migliore via di accesso a una contestualizzazione della filosofia alla luce di problemi dibattiti attuali e questo non per una qualche forzatura non perché si debba come dire imbrigliare o imporre alla storia della filosofia una griglia ad essa estranea ma anzi proprio facendo risaltare e dando pieno valore a quello che è stato nient'altro che lo sviluppo della filosofia nel corso dei millenni l'idea di fondo l'idea molto generale poi declinata nel nei corsi di filosofia di cui sono coautore e che la filosofia non sia affatto un sapere isolato dal mondo non sia un sapere con delle leggi che lo distinguono e lo isolano dalle altre forme del sapere o meglio è questo ma in virtù di una natura che insieme lo mette in contatto con le forme della conoscenza perché la filosofia non è altro che quell'aspetto del conoscere in cui il conoscere diventa in qualche modo creativo mette se stesso a fuoco e si propone di organizzare nuovi aspetti dell'esperienza dando forma a nuove forme di sapere per l'appunto in questa slide si trovano due passi della prefazione della nuova edizione in tre volumi del manuale le vie della conoscenza appena uscita e cui si ribadisce un punto centrale la filosofia nel momento stesso in cui è nata come un sapere diverso dagli altri ha tuttavia sempre in trattatura un rapporto di dialogo e di critica rispetto alle altre forme di sapere per questo a noi piace definire la filosofia come un laboratorio nella quale conoscenze diverse si confrontano e interagiscono e soprattutto dove nuove forme del sapere e della comprensione del mondo sono formulate e sperimentate proprio per questa ragione importante collegare la filosofia alle altre forme della conoscenza umana e dell'esperienza umana nella conoscenza in altri e in altri aspetti della della società e questo per esempio il tema del pensiero femminile che è un tema al centro del dibattito filosofico attuale ma che ancora una volta può solo giovarsi di una comprensione storica che fa vedere sia come alcune questioni siano profondamente radicate nel divenire della storia della filosofia sia come effettivamente i dibattiti più recenti portino un contributo nuovo naturalmente questo modo di concepire l'insegnamento della filosofia si deve confrontare con una consueta obiezione che viene rivolta all'insegnamento di tipo storico all'insegnamento di tipo storico della filosofia si rimprovera spesso di essere un insegnamento che non favorisce la creatività dei ragazzi ma si limita a un apprendimento di conoscenze e senza una elaborazione critica nei decenni passati la lettura di tipo storico della filosofia era anche associata ad alcune tesi precise per esempio lo storicismo c'è un una sorta di divenire storico con alcune leggi ben precise che il filosofo deve ricostruire non è questo quello che si intende quando nel nostro manuale parliamo di una visione aperta della filosofia la filosofia non si riduce al contesto storico da cui nasce ma allo stesso tempo è incomprensibile senza quel retroterra ha insieme un rapporto di dialogo di nascita da un certo contesto storico sociale che pone i problemi su cui il pensiero filosofico riflette ma allo stesso tempo di separazione da questo contesto nella misura in cui la filosofia non si è limitata ad aderire a una certa epoca storica ma a posto dei problemi ha formulato questioni ha inventato nuove forme del sapere in qualche modo prendendo sempre spunto da un mondo circostante ma formulando domande nuove che hanno suscitato interrogativi e forme di conoscenza prima non conosciuta vorrei illustrare tutto questo con alcuni esempi come al solito gli esempi saranno tratti in particolare dalla nuova edizione del manuale in tre volumi destinata a molti indirizzi scolastici di tipo diverso in cui abbiamo posto sempre maggiore attenzione al dialogo della filosofia con le altre forme della conoscenza e abbiamo anche introdotto in questa nuova edizione alcune sezioni che non sono presenti nell'edizione più ampia e sono un vero contributo originale in qualche modo per esempio le sezioni dedicate al cosiddetto pensiero femminile che cosa si intende per pensiero femminile beh certamente il pensiero femminile è un frutto del dibattito filosofico degli ultimi decenni del novecento in particolare dei decenni successivi alla seconda guerra mondiale quando la questione femminile è diventata un vero e proprio oggetto di pensiero non solo per uomini che si interrogano sullo statuto delle delle donne ma sulla donne che si interrogano sul che cosa vuol dire il femminile nel pensiero nella filosofia e che significato a questa domanda senza naturalmente voler ridurre i dibattiti più originali al ai loro antecedenti è però interessante notare come la filosofia non è come dire qualcosa per soli maschi fino al novecento sia perché ci sono state varie filosofe nel corso dei secoli non è affatto vero che non ci fossero filosofe prima del novecento anche nell'antichità ma sia perché il pensiero si è spesso confrontato con il tema del femminile in una maniera estremamente originale che per alcuni aspetti può ricordare anche degli sviluppi molto molto recenti la prima scheda sul pensiero femminile del nostro manuale riguarda una figura in qualche modo paradigmatica cioè antigone la protagonista della tragedia di sofocle e l'antitesi tra antigone e il suo antagonista cioè creonte bene in questa grande tragedia di sofocle e noi cerchiamo di far notare basandoci anche su alcuni studi recenti penso agli studi di mauro bonazzi come in realtà creonte antigone per sofocle avessero entrambi ragione e la tragedia nasce proprio dal conflitto di due ragioni contrapposte tutto questo ci rende una precisa epoca storica l'epoca della democrazia ateniese l'epoca in cui con pericle si impone una idea umana di giustizia politica legata alla dimensione della città una dimensione che è stata da volta chiamata illuministica e che tuttavia si scontra con le ragioni di antigone la legge divina e impone ad antigone di seppellire il suo fratello contro la legge imposta da creonte fondo la l'idea di sofocle è che creonte antigone siano insieme complementari e rivali che la legge umana di creonte nel momento in cui opprime antigone si trasforma in tirannide e che la legge divina di antigone le ragioni dell'amicizia contrapposte a quelle della legge nel momento in cui non viene a patti con la legge diventa in qualche modo sterile isolata dalla città è un punto in cui più che stabile chi ha ragione che ha torto la tragedia serve a farci vedere il confronto di ragioni contrapposte e anche la difficoltà di stabilire una posizione come dire definita no nel valutarle questa scheda sul pensiero femminile si incrocia con altre rubriche del manuale chiaramente nel nella presentazione della filosofia del quinto secolo avanti cristo viene dato spazio a quello che per alcuni è il modello storico di creonte cioè pericle il grande politico della democrazia ateniese del quinto secolo avanti cristo in cui di nuovo e questo è un aspetto a cui abbiamo dato molta attenzione del manuale cioè evitare delle presentazioni unilaterali delle grandi personalità storico filosofiche pericle non è soltanto un grande politico o un politico tra virgolette buono è un politico spregiudicato così come il regime democratico ateniese è stato insieme un regime estremamente come dire sono un'epoca straordinaria nella storia umana ma anche un'epoca di grandi contraddizioni per questo in questa scheda si parla dell'epitafio di pericle ma si parla anche della visione molto pessimistica che tucidi dello storico tucidi idea dell'evoluzione della politica ateniese quando la guerra mette in luce quella violenza che in qualche modo era già insita nel regime democratico e qui troviamo l'ambivalenza di creonte politica legge umana e violenza come si può separarle ecco da questa da questo ambiente da questo insieme di questioni poste dal mondo storico emerge la riflessione di socrate in questo caso si è segnalato una scheda sulla maschera di socrate che il titolo di un bellissimo libro dello storico dell'arte paul zanker in cui si esamina il volto di socrate nell'iconografia antica e la ricerca del brutto in qualche modo nel modo in cui ritratto socrate che lo pone in alternativa ai canoni della città bene in fondo socrate è un filosofo per certi aspetti è colui che crea la nozione stessa di filosofia come un sapere distinto dagli altri e la crea in un continuo dialogo con un mondo quello della città ateniese rispetto al quale socrate insieme vicino di appartiene e rispetto a cui è estremamente distante la ricerca socratica del sapere la confutazione socratica non può concepirsi al di fuori di quell'insieme di domande di problemi di questione aperte che sono quelle per l'appunto a cui abbiamo prima fatto riferimento cioè quelle poste dal discorso di pericle e quelle poste la democrazia ateniese del quinto secolo socrate non è affatto il pensatore che aderisce alla democrazia pone dei problemi che in qualche modo scardinano la l'idea stessa di democrazia antica non a caso socrate ha messo a morte dal regime democratico e tuttavia sarebbe impensabile la riflessione socratica senza quel retroterra sociale culturale questa dimensione di questioni aperte a proposito in confronto con un insieme di saperi preesistente rispetto a cui la filosofia dialoga ed è critica allo stesso tempo non è stata soltanto seguita nella trattazione dei vari argomenti proposti ma abbiamo cercato sempre in questa edizione in tre volumi di dare in qualche modo espressione quasi grafica visuale a questa dimensione del sapere filosofico per esempio con delle rubriche chiamate bacheche che cosa sono le bacheche sono delle rubriche in cui si esaminano termini o questioni chiave in una duplice prospettiva anzi triplice da un lato la questione filosofica con cui noi ci confrontiamo quella che potrebbe sembrare una questione senza tempo una questione della filosofia per esempio se gli esseri umani siano davvero liberi delle loro scelte se possano davvero agire in un modo e astenersi dall agire oppure se invece le nostre azioni siano determinate sono delle questioni su cui la filosofia ribatte ancora oggi la questione della libero arbitria ma questa questione in qualche modo eterna della filosofia si pone in maniera urgente sulla base di un preciso ambiente e di un contesto storico all'epoca di socrate il dialogo tra socrate e sofisti e la grande questione se la conoscenza basti sia sufficiente ad agire in un certo modo se si possa conoscere qualcosa e agire in modo diverso allo stesso tempo la questione filosofica il retroterra storico che permette di coglierla nel suo nascere nel suo farsi e non in maniera puramente astratta come una sorta di mera combinatoria di concetti bene la questione filosofica il retroterra storico possono essere declinati in tanti ambiti in cui si vede la vocazione davvero interdisciplinare della filosofia cioè studiare la filosofia in modo interdisciplinare non significa imporre una griglia estranea alla filosofia significa semplicemente dare pieno significato a quello che la filosofia è per sua natura che a quello che è sempre stata e nelle pacheche insieme all'introduzione di tipo storico filosofico e di tipo concettuale abbiamo delle rubriche che ci inviano a degli esempi di dei problemi posti in vari ambiti per esempio in questo caso il tema della libertà è innanzitutto illustrato in un esempio letterario nella tragedia medeano la medea la protagonista della tragedia di euripide che non recede davanti al misfatto più grande uccide i propri figli e che secondo euripide sa che sta compiendo un'azione terribile e tuttavia scegli ugualmente di compierla la medea di euripide in questo senso una sorta di contro esempio all'idea in fondo molto ottimistica di socrate per cui basta conoscere il bene per agire di conseguenza ma oltre all'esempio letterario abbiamo un esempio tratto dal cinema per lo studio della questione sulla scelta e la libertà uno dei delle opere di riferimento è ovviamente arancia meccanica di starley kubrick dove al protagonista viene applicata una cura la cosiddetta cura ludovico in cui il protagonista cambia radicalmente personalità par come dire perde la sua possibilità di scegliere un comportamento peraltro estremamente distruttivo il mondo descritto da kubrick è un mondo in cui non c'è più spazio per la scelta non c'è più spazio per la conoscenza un mondo in questo senso senza filosofia senza ricerca della conoscenza oltre a letteratura e cinema ci sono poi altri esempi in questo caso un dipinto celeberrimo di annibale carracci conservata al palazzo farnese a roma ercole albivio che illustra un esempio classico di scelta quello tra il vizio e la virtù e infine le grandi scelte a cui noi siamo confrontati oggi in questo caso la scelta di un comportamento diverso rispetto a quello che ha conseguenze così gravi sul mutamento del clima nella terra è in questo senso ancora oggi il tema posto da socrate è più urgente che mai noi sappiamo che alcuni comportamenti distruggono il pianeta e tuttavia non smettiamo di seguirli in che senso conoscere può essere la via migliore per agire diversamente o forse non lo è conoscere non è sufficiente per agire occorre anche una componente emozionale emotiva che la conoscenza da sola non dà bene questi temi posti e direi in qualche modo esemplificati nella maniera più efficace per l'apprendimento in un certo contesto storico filosofico tuttavia poi diventano questioni le questioni che la filosofia pone e su cui si interroga e che ci accompagnano ancora oggi un'altra bacheca sempre tratta dal primo volume riguarda un altro argomento collegato allo studio di socrate di platone cioè il rapporto tra finzione conoscenza ancora una volta la struttura della bacheca pone un problema filosofico cioè la distinzione tra conoscenza autentica e semplice persuasione che troviamo in platone rispetto per esempio alla sofistica di gorgia lo situa nel suo nascere nella nell'opera di questo filosofo ma allo stesso tempo ne tratta sia gli aspetti teorici quelli che ancora oggi ci intervano al di là della sua nascita storica e sia ovviamente delle esemplificazioni in varie forme della conoscenza dell'arte o con riferimento a un certo contesto sociale in questo caso ovviamente abbiamo si sono scelti degli esempi che si prestano anche a una conoscenza diretta da parte degli studenti per esempio 1984 1984 questo mondo descritto da orwell in cui la realtà e la finzione si intrecciano in maniera così sinistra in fondo quanti ragazzi sanno che l'espressione grande fratello viene precisamente dal romanzo di orwell forse molti forse un po di meno interessante come questa espressione così fosca no nel romanzo di orwell se oggi diventato un'espressione che rimanda un programma di intrattenimento anche questo è un aspetto su cui si potrebbe riflettere proprio a partire da questi temi posti a proposito del dibattito filosofico e poi altri esempi quarto potere di orson wells il surrealismo di magritte e naturalmente quell'elemento che noi oggi chiamiamo realtà virtuale e che in fondo ci rimanda a tanti interrogativi formulati da platoni qual è la realtà delle immagini in che senso le le immagini sono realtà diminuita in che senso sono realtà aumentata in che senso possiamo dire che attraverso le immagini viviamo in un mondo parallelo ecco sono tutte questioni in cui direi la filosofia vive di questa triplice dimensione dialogo con un'attualità un contesto storico formulazione di nuove domande di nuove forme di conoscenza e esame teorico di delle questioni così affrontate e declinazione di queste questioni in tanti ambiti rispetto a cui la filosofia ha sempre avuto il ruolo di ispiratrice dalla filosofia hanno tratto nutrimento le arti le scienze le scienze sono spesso nate proprio con una formulazione filosofica questo è stato è un po' il primo esempio che ho voluto proporre in questo webinar c'è poi un altro aspetto per cui io credo lo studio storico sia particolarmente fecondo studiare la filosofia il rapporto alla sua storia ci permette di far vedere non solo come alcune questioni che occupano i dibattiti attuali abbiano una storia molto antica ma ci permette anche di cogliere l'aspetto ambiguo ambivalente delle questioni su cui siamo chiamati a decidere conoscere le questioni della loro complessità significa che qualsiasi posizione si decida di prendere al riguardo sarà una posizione ben fondata una posizione basata sul ragionamento critico e non sulla semplice scelta priva di valutazione ed è importante io credo che i ragazzi siano perfettamente consapevoli di come è difficile individuare come dire la ragione e il torto certamente ci sono è importantissimo prendere le posizioni opportune ma bisogna essere consapevoli della complessità dei problemi e io proporrei due esempi sono delle rubriche tratte dal secondo volume rubriche di collegamenti la rubrica ai filosofi il nuovo mondo a vedere come il tema del relativismo culturale della tolleranza formulato per la prima volta da montagna è in qualche modo l'altra faccia del tema delle del colonialismo cioè è stato proprio in virtù della dell'espansione coloniale dell'occidente nel sedicesimo secolo che in occidente si è formulato il problema di una esistenza di pluralità di valori e di civiltà è giusto opporre la tolleranza a un atteggiamento di come dire un atteggiamento coloniale ma bisogna anche capire come le due questioni siano del tutto intrecciate l'idea che ci sia una pluralità di valori e di culture e di civiltà non ordinate in modo gerarchico è nata in occidente proprio nell'epoca in cui c'è stata la grande espansione brutale delle colonie nel cosiddetto nuovo mondo così come la grande rivoluzione scientifica del diciassettesimo secolo che ha portato qui abbiamo una rubrica in cui si esamina la trasformazione dell'immagine del filosofo nell'epoca della rivoluzione scientifica il filosofo non è più solo accompagnato da libri come era dall'epoca ellenistica in poi ma è accompagnato da strumenti come il cannocchiale strumenti che lo rendono uno scienziato lo rendono un filosofo che opera nel mondo e non ha solo un sapere libresco ecco questa mentalità che noi giudichiamo molto positivamente in fondo da questa trasformazione della filosofia è nato il nostro mondo il mondo della scienza il mondo moderno d'altra parte era anche quel tipo di trasformazione che ha creato grandi problemi come la questione ambientale che è strettamente legata all'evoluzione della tecnica ancora una volta non si tratta di come dire prendere posizione in fondo scopo di un manuale di filosofia dell'insegnamento della filosofia non è quello di diciamo veicolare delle opinioni prestabilite anche se ovviamente gli autori di un manuale hanno le loro opinioni ma di dare a chi usa il manuale gli strumenti per formulare le proprie idee in modo critico e una volta diciamo illustrati questi due esempi in cui si può partire proprio da uno studio storico per cogliere le sue ramificazioni della ramificazione di un problema alla sua origine e la sua potenziale ambivalenza ancora oggi vediamo qualche possibile sviluppo naturalmente il tema della natura e della scienza ci rinvia a un'altra bacheca questa volta tratta dal terzo volume il tema della natura per l'appunto come la natura diciamo proprio la grande trasformazione legata alla rivoluzione scientifica ha modificato la vita umana il suo rapporto alla natura e tuttavia ha creato le premesse per le questioni che ora ci assillano con grande urgenza pensiamo al questione del cambiamento climatico d'altra parte uno studio di tipo storico consapevole può anche portare a non idealizzare un mondo privo di tecnica talvolta si dice beh la tecnica ci ha portato l'inquinamento ci ha portato tante cose negative ma allo stesso tempo è molto facile di realizzare un mondo privo della tecnica è un po il mito del buon selvaggio se vogliamo in realtà si tratta di cogliere come la tecnica e in questo diciamo la la lezione dei grandi tragici greci e ancora valida è difficile isolare il bene dal male la ragione dal torto purtroppo molto o per fortuna le due cose spesso si intrecciano dall'epoca moderna in fondo è sia l'epoca del grande progresso tecnico sia l'epoca in cui gradualmente inizia una emancipazione della donna e qui abbiamo nelle schede del pensiero femminile una scheda dedicata alla filosofa margaret lucas cavendish del diciassettesimo secolo grande esponente dell'epoca della rivoluzione scientifica la prima filosofa alla royal society l'altro aspetto che avevamo prima notato quindi da un lato la scienza come elemento di rivoluzione di progresso nel mondo moderno ma anche come elemento potenzialmente distruttore ed è bene che siano tenuti insieme i due aspetti con grande consapevolezza l'altro aspetto questo legame tra espansione coloniale intolleranza e nascita del concetto di relativismo con montagne insieme naturalmente questi sono problemi che nei dibattiti attuali hanno una particolare rilevanza qui si vede una bacheca del terzo volume dedicata proprio al tema del rapporto tra culture e culture e a queste nozioni così al centro dei dibattiti anche molto vivaci molto accesi che animano questi questa nostra epoca il rapporto tra identità culturali differenze la possibilità di una convivenza tra culture oppure la necessità tra uno scondi uno scontro tra culture in questo caso ancora una volta abbiamo la classica struttura della bacheca una introduzione di tipo tanto storico filosofico quanto concettuale di tipo teorico potremmo dire e varie esemplificazioni che mostrano il rapporto tra il sapere filosofico e le altre forme dell'esperienza umana che riguardano appunto la letteratura il cinema e l'arte e gli elementi di politica e storia il tema della cosiddetta ossessione identitaria qui si rinvia politica e storia a un libro di francesco remotti un tema particolarmente interessante proprio perché il tema dell'identità è uno dei temi al centro della riflessione storico filosofica in fondo dall'epoca di parmenide e di platone e di aristoteli in cui si teorizza l'esistenza di essenze di nature invarianti identiche che sembrano necessarie per dare senso alla nostra esperienza e a cui è molto difficile rinunciare perché sembra che senza una una sorta di radicamento nell'identità è impossibile dar conto del mondo in cui viviamo ma allo stesso tempo si pongono come dire come una minaccia alla possibilità di comprendere l'esperienza nella sua ricchezza nella sua molteplicità e questo tema è davvero uno dei grandi elementi che percorre tutta la storia del pensiero il tema del rapporto tra identità e differenza questi due concetti apparentemente opposti ma allo stesso tempo complementari che rinviano l'uno all'altro pur non in qualche modo potendo mai essere davvero conciliati questa introduzione ci rinvia naturalmente a l'ultima parte del manuale in cui i dibattiti più recenti sono pienamente esposti e sviluppati abbiamo cercato di dare un grande risalto non tanto agli autori più recenti dei dibattiti filosofici in fondo noi non abbiamo ancora una sorta di canone di autori recenti stabilito noi sappiamo che i grandi autori del quarto secolo avanti cristo sono platone aristotele per tante ragioni lo sappiamo anche perché sono passati oltre 20 secoli che hanno in qualche modo selezionato nel contesto di quei decenni quelle opere che ci sono pervenute noi fondo non abbiamo un canone degli autori più recenti ma abbiamo invece un quadro molto preciso delle grandi questioni su cui si interroga la filosofia ecco la questione del pensiero femminile non è più solo la questione di ci sono state donne filosofo ed è una questione questa qui su cui si può dare una risposta meno unilaterale di quella che talvolta si tende a credere donne filosofo ci sono sempre state fin dall'antichità anche se in una posizione minoritaria ma il pensiero femminile è che cosa può il femminile diventare oggetto di riflessione filosofica che cosa intendiamo per genere il rispetto a sesso proprio la nostra trattazione si apre sulla chiarificazione di questi concetti genere si riferisce a uomini e donne nella misura in cui la loro distinzione dipende da fattori culturali e sociali da qui i dibattiti su cui oggi davvero si discute in modo anche molto acceso questa nozione di genere è davvero fondata si può prescindere dalla differenza biologica dobbiamo in qualche modo ridurre la nozione di sesso a quella di genere sono tutte questioni su cui non c'è una visione unanime condivisa così come non c'è una visione unanime condivisa sul tipo di ruolo da dare la donna alla filosofia si possono distinguere due idee di femminismo una di stampo liberale che insiste sull'uguaglianza dei diritti e dell'opportunità tra uomini e donne l'altra invece che insiste proprio in una funzione in qualche modo liberatoria sulla radicale differenza dei due sessi bene tutto questo perché è così importante perché la differenza in fondo è un concetto canonico della riflessione filosofica occidentale l'abbiamo detto cominciamo con parmenide platone aristotele il tema della differenza e il dialogo tra sostanza essenza e molteplicità delle differenze pensiero della differenza attuale spesso si pone come anti essenzialistico come anti sostanzialistico con una critica del concetto di identità in qualche modo fondato nella tradizione occidentale tuttavia uno studio storico può far vedere come questo concetto di identità sia sempre stato in dialogo scontro e incontro con quello di di differenza così come altri aspetti della dibattito contemporaneo a cui noi abbiamo cercato di dare spazio pensiamo di nuovo alla quella scheda sui filosofi il nuovo mondo bene dibattito contemporaneo spesso ha dato ampio spazio a un'idea della dell'etica come sviluppo di capacità in cui non si tende a rendere omogenee in modo in debito nei criteri no in base a cui si giudicano delle azioni ma si considerano le varie società nella loro diversità e come un modello di giustizia vada di volta in volta applicato in diversi contesti l'etica delle capacità è stata molto sviluppata negli ultimi decenni da martia sen e marta nusbaum vediamo qui una una giusta trattazione perché è certamente una delle più interessanti riflessioni contemporanee sull'etica peraltro radicata nel pensiero antico marta nusba non a caso uno studioso di aristotele e l'etica della capacità sicuramente raccoglie molti spunti dell'etica antica in particolare dell'etica di aristotele tutto questo ci dà una visione certamente molto dinamica dei dibattiti attuali dibattiti in cui in un contesto sempre più ampio sempre più globale temi come la differenza le molteplici capacità le opportunità trovano una loro definizione ma non dobbiamo dimenticarci che la filosofia è anche capace di porre problemi che vanno oltre il contesto immediato per esempio fin da platone la filosofia si ha posto un grande problema su cui ancora oggi a cui noi ancora oggi siamo richiamati questa visione di progressivo ampiamento della ragione di progressivo ampiamento delle opportunità o del pensiero ma pensiamo appunto all'idea di ci siano sempre maggiori differenze da integrare può tenersi in piedi o rischia a sua volta di crollare di avere dei limiti interni che la mettono in questione ecco proprio da questo punto di vista ci siamo interrogati sia nel manuale sia in un volume che da che è allegato al manuale ed è un volume di letture pensato anche in funzione del nuovo esame di maturità letture di testi argomentativi letture di grandi testi argomentativi ancora una volta della storia della filosofia ma anche dei dibattiti attuali che permettono di collocare i problemi in un contesto più ampio e anche di prendere conoscenza di grandissime opere della storia del pensiero questa idea di un mondo globalizzato questa idea di un mondo in cui tutti hanno le loro opportunità in contesti diversi riesce davvero a reggere alla prova della realtà bene nella voce economia perché il volume i re istruzioni dell'uso per l'uso è strutturato come un dizionario con dei termini chiave il rapporto ai quali sono presenti letture che danno punti di vista diversi con degli esercizi di comprensione e di analisi qui abbiamo da un lato uno dei passi più famosi in cui viene esaltato il mondo moderno illuministico il mondo che nella ricerca di un profitto sulla terra mette in secondo piano quei contrasti religiosi che avevano causato tanti spargimenti di sangue e sono le famose pagine di volterre sulla borsa di londra come villaggio globale le lettere inglesi di volta sono la sua grande elogio della civiltà inglese liberale ogni inglese dice volter c'è le berri ma frase va in cielo per la strada che gli aggrada sembra che diciamo abbiamo qui una visione del tutto positiva no della tolleranza in un mondo liberale in cui la realizzazione attraverso il commercio permette di dare una uno sbocco positivo a quelle energie che invece erano state fossilizzate nelle conflitti religiosi ora noi a distanza di tanti secoli vediamo la crisi di questo modello e dopo volterre abbiamo scelto di inserire una lettura tratta da un libro recentissimo un libro pubblicato lo scorso anno da un grande storico che insegna new rock a new york lo schianto è un grande libro un grande affresco sulla crisi finanziaria del 2008 e sulle conseguenze che esso avuto fondo per alcuni e tu in parte suggerisce questa lettura la crisi finanziaria del 2008 segna simbolicamente la fine di quel mondo moderno cominciato proprio nell'illuminismo e diciamo il riemergere di tendenze che si credevano in qualche modo finite nascoste ancora una volta la alla come dire alla alla prova della crisi questo modello razionalistico volteriano liberale sembra non reggere sembra che gli esseri umani abbiano in sé delle componenti che la visione luministica solo rimosso ma non ha affatto regolato in fondo una ragione che non parla agli effetti sembra essere non efficace sembra non essere davvero capace di imporre la sua la sua legge tus chiude il suo libro con una bellissima descrizione del mondo attuale in cui in un contesto che sembrava del tutto regolato da leggi perfettamente razionale riemergono conflitti riemergono conflitti proprio perché forse quella ragione non ha saputo dialogare no con elementi estranei ad essa proprio perché la questa mondo con pacifico e commerciale descritto da volterre e foriero porta enormi tensioni e in fondo nella nella dinamica che troviamo qui beh possiamo rivedere quello che abbiamo descritto all'inizio il contrasto tra creonte e antigone la grandezza di sofocle è quella di notare come creonte non può sostituire antigone e antigone non può in fondo sostituire creonte sono in conflitto reciproco e questo conflitto può essere nel peggiore dei casi distruttivo il migliore dei casi che non è quello ovviamente espresso nella tragedia forse può preludere una qualche forma di mediazione di confronto è con questo con questo tipo di atteggiamento che io credo la filosofia possa essere insieme studiata storicamente e attualizzata perché non perché bisogna attualizzare per forza ma perché studiare la filosofia di riferimento al suo contesto storico è i problemi che sapone il rapporto adesso è proprio la maniera migliore per farla dialogare con il mondo che circonda i ragazzi che la prendono e soprattutto perché i ragazzi non vedono la filosofia come uno strumento per aderire al presente la filosofia non è uno strumento per aderire al presente è uno strumento per porre delle domande nuove rispetto al presente per comprenderlo con occhi diversi per ricercare nuove vie della conoscenza così come il nostro manuale intende suggerire ma proprio per questa ragione è fondamentale partire da una conoscenza del mondo in cui si vive e della storia che ha portato ad esso prima di concludere volevo ricordarvi un'ultima iniziativa di mondadori education un ciclo di formazione nella scuola pensato come una formazione su misura disegnata intorno ai bisogni degli insegnanti qui nella slide trovate il link che vi darà tutte le informazioni relative a questo progetto il webinar si chiude si chiude qui a questo punto naturalmente sarò molto felice di rispondere alle vostre domande che cominciano ad arrivare una domanda è una domanda diciamo certamente certamente giusta e corretta cioè se questo tipo di lettura che ho proposto in qualche modo favorisca la collaborazione tra i docenti di filosofia e docenti di altre discipline direi certamente sì lo studio diciamo la collaborazione la collaborazione con le altre discipline io credo vada sempre fatta non perché bisogna per forza farla non bisogna come dire per forza collaborare col collega di matematica di storia dell'arte o di italiano ma sempre fatta intorno a questioni a problemi e in fondo l'impostazione che si è scelto di dare al nostro manuale è proprio questa cioè far favorire attraverso lo studio di esempi attraverso lo studio di contestualizzazioni e ampie quegli elementi che favoriscono il confronto tra docenti allo stesso tempo io non credo che esistano indirizzi di studio più favorevoli alla filosofia rispetto ad altri la filosofia per sua definizione dialoga con tutte le forme della conoscenza e del sapere umano e a questa domanda molto interessante lo studio della filosofia secondo me è sempre attuale direi di sì attuale e inattuale cioè è attuale perché la filosofia può sempre dire qualcosa rispetto all'oggi inattuale perché lo studio della filosofia non si deve limitare a registrare il presente ma come abbiamo detto deve aiutare lo lo studente a porre delle domande che gli facciano comprendere il presente con occhio critico studiare il passato è la forma migliore per guardare il presente con occhi diversi da quelli che ci vengono in qualche modo proposti dagli standard dagli standard dominanti noi viviamo in una sorta di dittatura del presente no tutto deve essere finalizzato al presente ecco questo questa forma di insegnamento che un po è stata seguita nella nella progettazione di questo manuale lega invece lo studio del passato alla riflessione critica sul presente proprio perché studiare il passato ci permette di cogliere come il presente sia molto più complesso di quello che a noi apparentemente possa sembrare e come il presente sia molto più legato a un'ambivalenza di grandi di grandi problemi sicuramente nel nostro manuale ci sono ovviamente vari apparati legate alle elezioni di cittadinanza e costituzione è una priorità del nostro manuale per quanto riguarda il legame tra filosofia e storiografia giustamente si dice da un lato abbiamo delle opinioni dall'altra parte il tentativo di oggettivare delle opinioni cioè una storiografia che parla di opinioni altrui bene io credo che è importante tenere questi due aspetti estremamente estremamente collegati la riflessione storica e la riflessione sui problemi sono parti di una stessa rete ed è sbagliato pensare che ci sia una sorta di movimento del pensiero slegato dalla conoscenza storica o che la conoscenza storica sia semplicemente un riportare fatti opinioni in realtà la conoscenza storica è quella che dà sostanza spessore critico ai problemi che noi esaminiamo per quanto riguarda un'altra domanda interessante se il nostro manuale cerca di affrontare la filosofia attraverso argomenti e tematiche nelle diverse epoche diciamo che gli apparati a cui abbiamo fatto riferimento le bacheche i collegamenti sono esattamente rivolti a questo scopo cioè da un lato c'è uno studio tradizionale che deve esserci il profilo l'antologia dall'altra parte però una continua contestualizzazione di temi e problemi attraverso le epoche e attraverso le varie fonti della della conoscenza poi abbiamo delle interessanti domande che cosa definisce il pensiero liberale beh pensiero liberale è una corrente di pensiero insomma le cui radici sono fondamentalmente nell'illuminismo e a tante declinazioni non c'è una sola forma di pensiero liberale nella forma attualmente dominante che è quella che tra le sue origini il pensiero anglosassone del diciannovesimo secolo pensiamo a john stewart mill pensiero liberale è quello che pone l'individuo alla base della riflessione e le libertà dell'individuo libertà inviolabile dell'individuo alla base della riflessione politica ed etica è una ci sono forme di liberalismo molto diverse da questo questa è quella forma di liberalismo che ha avuto una presentazione canonica del novecento nel libro di popper sulla società aperta e sui nemici e nell'opposizione tra la società aperta e liberale e le forme di pensiero totalitario per cui l'individuo è nulla come diceva popper bene proprio il libro di popper si presta molto bene un libro interessantissimo balletto e di nuovo però si presta tanti a tante letture popper insieme fa vedere molto bene le grandi potenzialità della società aperta ma forse involontariamente ne fa vedere anche i rischi quello di una società spersonalizzata indifferenziata in cui il tema dell'identità riemerge ed è proprio quello a cui ci troviamo di fonte al giorno d'oggi se la filosofia può dare principi morali all'oggi non lo so è molto difficile da dei principi morali all'oggi la filosofia forse non ha tanto questo scopo la filosofia non deve tanto come dire dare delle risposte deve aiutarci a formulare domande nuove domande che noi non avevamo formulato prima per questo tante scienze sono nate dalla filosofia pensate tra 700 800 il mondo pone delle domande e dei filosofi adam smith e carl marx formulano una nuova maniera di affrontarli quella dell'economia l'economia in fondo è nata proprio dalla filosofia morale ecco io non credo che poi la filosofia possa tanto dare principi morali ma certamente può darci un modo di guardare la realtà che è il presupposto per ogni morale fondata sul pensiero e sull'argomentazione alla domanda da quale ordine di scuola si possono introdurre temi e domande filosofici io risponderei beh è un punto molto interessante perché secondo alcuni interpreti penso per esempio a zippel sono appena uscito un suo libro molto interessante presso carocci la filosofia si può insegnare in ogni ordine scolastico e i bambini sono filosofi naturali per così dire quindi io credo che temi e domande filosofiche si possano porre in qualsiasi ordine di scuola e in qualsiasi ordine di scuola si può io credo fruttuosamente insistere sulla necessità che le conoscenze e le competenze dialoghino che la storia e l'attualità interagiscano tra di loro isolare un aspetto rispetto all'altro di questa polarità porta a mio modo di vedere a risultati molto molto negativi molto unilaterali la riflessione filosofica si dice pone problemi mentre la storiografia basata sui documenti è vero e non è vero la filosofia filosofi la riflessione filosofica spesso si è basata su testi e documenti ma ha posto problemi a partire da testi e documenti così come la storiografia molto spesso parte da documenti ma parte da documenti ma non si ferma all'analisi di documenti se la filosofia si può introdurre anche negli istituti tecnici direi di sì ma perché pensiamo a quello che abbiamo visto prima sull'immagine del filosofo la tecnica è nata con la filosofia quindi si tratta se noi ovviamente proponiamo a degli studenti la filosofia come una astrusa rassegna di opinioni non so platone riteneva che ci sono le idee stanno nell'iperuraneo aristotele riteneva che c'è il motore immobile che è pensiero di pensiero chiaramente la filosofia non può non ha molto senso studiare gli istituti tecnici ma direi in qualsiasi istituto noi la facciamo la ricostruiamo nel suo nascere e con quel tipo di lettura che ho cercato di illustrare di dialogo e di reazione come dire di dialogo e di critica rispetto alle forme del sapere e della della vita sociale credo che anche negli istituti tecnici sia estremamente fruttuoso insegnarla alla domanda quale ruolo assumerà in futuro il testo una domanda bellissima io credo che il testo è messo sotto accusa attualmente perché perché il testo soprattutto un testo complesso filosofico è un testo lungo difficile da comprendere e noi viviamo in un'epoca che è stata chiamata l'epoca della frammentazione l'epoca delle informazioni brevi delle informazioni istantanee che poco si prestano alla diciamo distensione di un testo argomentativo bene io credo che invece studiare i testi e porsi domande a partire dei testi se un esercizio utilissimo proprio perché aiuta a dialogare con ciò che è complesso allora lo sforzo che bisogna cercare di intraprendere è quello di abituare i ragazzi a ciò che è complesso senza farli spaventare da ciò che è complesso ciò che è complesso è ciò che stimola la riflessione e certamente leggere i testi è un esercizio poi i testi si leggono attraverso analisi del testo attraverso strumenti che favoriscono lo studio dei testi anche più complessi rispetto ad altri due domande è approfondire è importante approfondire il tema filosofico delle differenze della scuola direi oggi più che mai è importante soprattutto approfondire il tema delle differenze nelle sue nei suoi vari aspetti quello teoretico quello logico metafisico quello etico politico proprio perché non c'è una risposta semplice a questi temi non c'è una risposta semplice che ci permette di distinguere quello che è bene quello che è male per questo bisogna studiare la questione della differenza in tutta la sua complessità fondo la nostra epoca insieme l'epoca in cui le differenze sono più presenti ma proprio per questa ragione in cui il tema dell'identità riemerge in maniera particolarmente forte quindi credo che sia davvero importante dar conto di questo aspetto in fondo questo dialogo tra identità differenze comincia a formularsi quando con il pensiero di parmenide e con le reazioni dei pluralisti a parmenide quindi democrito anasagora ma anche platone è lì che in qualche modo si comincia a formulare quell'insieme di problemi che ancora oggi in tanti ambiti ci rimane un termine di confronto infine si può una disciplina come l'economia aziendale può presentare collegamenti con lo studio della della filosofia beh in parte direi l'economia nasce dalla filosofia cioè ada smith e karmat sono stati filosofi l'economia nasce dalla filosofia morale e grandi dibattiti del novecento keynes hayek hanno un fortissimo sostrato filosofico economisti come keynes e hayek avevano una grande cultura filosofica che si ritrova nelle loro concezioni economiche la filosofia vede l'economia nel suo stato nascente poi è chiaro l'economia si è evoluta con una sua con un come disciplina propria molto tecnica ma è molto importante che non si perda contatto con la sua nascita con le grandi questioni a cui l'economia ha cercato ha cercato di rispondere infine ci avviamo ora la conclusione di questo webinar qual è il contributo dell'antropologia riflessione filosofica di nuovo l'antropologia è nata dalla riflessione filosofica riflessione della filosofia è stata pensiamo a socrate e sofisti una riflessione sull'essere umano sulle sue potenzialità sui suoi limiti lo studio del pensiero antico ci insegna come gli antichi avesse una visione mai unilaterale dei problemi no sempre capaci di guardare una questione ma anche il suo opposto e in fondo è quello che ho cercato di proporvi anche in questo seminario far vedere come attraverso lo studio della storia i grandi problemi del mondo d'oggi sono ricostruiti nella loro origine sono ricostruiti nella loro ambivalenza nella loro molteplicità di sviluppi e ed è veramente importante che i ragazzi acquisiscano una forma di coscienza critica attraverso le conoscenze storiche del passato a cui appartengono proprio perché e vorrei davvero chiudere con questa frase l'ho già detta tante volte ma mi preme tanto ripeterla la conoscenza lo studio storico non solo non è opposta ma è la via migliore quella più profonda quella più consapevole perché il pensiero critico e le competenze siano sviluppate e si formi una vera e propria coscienza di cittadini e uomini responsabili esseri umani responsabili nei ragazzi e nelle ragazze che studiano filosofia con questo io ho terminato questo webinar ringrazio molto delle vostre domande che mi hanno davvero consentito di sviluppare tanti aspetti di questa presentazione e vi ringrazio dell'attenzione e vi dico arrivederci grazie mille grazie mille